Allora benvenuti, eccoci qui a Spirit su Craft, la grid italiana OpenSim e vediamo adesso come fare un script che credo sia molto utile per fare slideshow ne approfitto per mostrarvi questa ultima cosa che è comparsa in Spirit, questa installazione medievale, carina vedete che c'è anche qui un quadro, come sarebbe bello se potessimo cliccare su questo quadro e vederci un insieme di cose una galleria di quadri sempre sullo stesso oggetto, questo lo si può e lo vedremo adesso con questo script vedete che qui abbiamo un prim dove ci sono tre slide dentro per passare da una slide all'altra è sufficiente sufficiente è che io clicco sulla parte destra della slide e quindi vedete che passa la slide numero 2 2 su 3 con il titolo se clicco di nuovo vado sulla slide 3 se clicco ancora a destra ricomincio da capo e qui mi dice a che punto sono cliccando sulla parte sinistra della slide invece torno indietro e questo è uno script molto semplice che però può avere dei simpaticissimi effetti allora, innanzitutto come si usa? dunque, per usarlo basta che voi abbiate dentro, dentro questo oggetto ci mettete che cosa? allora, questo script è fondamentale che chiamiamo slide show e questo script lo vediamo poi stasera e poi fondamentalmente le slide che volete quindi la slide 1 è questa la slide 2 è questa la slide 3 è questa quindi voi dovete mettere in ordine alfabetico le slide che volete che siano proiettate se volete garantire un ordine basta che gli mettiate un suffisso prima un prefisso quindi fate ad esempio se volete che la slide 3 compaia per prima mettete qui slide 3 gli mettete un 0,1 la slide 1 la volete come seconda quindi gli cambiate nome gli mettete 0,2 sempre nelle proprietà del e la slide 2, l'ultima, la mettiamo la chiamiamo 0,3 appunto così le slide verranno presentate nell'ordine in cui sono presentate quindi la prima, abbiamo detto, sarà a questo punto questa quindi lo script che adesso poi vedremo dopo tools facciamo selezioniamo l'oggetto facciamo tools reset script se ce la facciamo mai tools eh, non ce la faremo comunque resettando lo script parte da 0 nella prima immagine quindi magari possiamo far prendere lo script così fare reset e vedete che partiamo con la prima immagine prima immagine e poi possiamo girare ora, come funziona questo script? allora, come si può fare a usare questo script? è presto detto basta che voi create un oggetto un cubo poi di questo cubo lo dimensionate in modo tale da sembrare uno schermo eccolo qua poi nelle texture gli togliete la texture del legno e magari la fate full bright eccola e poi dentro dobbiamo metterci gli script di cui adesso parliamo quindi gli script sono fondamentalmente questo slideshow che adesso ci trasciniamo un attimo negli script qua ok una volta che ce l'abbiamo nell'inventory se arriverà eccolo qua slideshow lo trasciniamo dentro col control dentro il contenuto e poi ci cerchiamo delle texture quindi slide 1 slide 2 slide 3 quindi slide 3 slide 2 slide 1 e poi col control ce le spostiamo dentro l'oggetto quindi a questo punto se tutto è andato bene editando l'oggetto nel suo contenuto non c'è non ha funzionato quindi ripassiamo quindi slideshow adesso ci ritroveremo sicuramente doppi ecco infatti era doppio cancelliamo lo script doppio ok quindi abbiamo lo script slideshow eccetera allora questo script è fatto in modo tale che soltanto l'owner possa cliccare per modificare se voi volete che tutti quelli che toccano possono modificare basta che modificate lo script come vedremo fra un poco dunque lo script lo vediamo adesso un po' in dettaglio non è uno script complicatissimo vedete è formato da pochissime cose fondamentalmente lo script inizia qua dove vedete default e finisce lì e ha uno state entry dove imposta un index 0 per dire che iniziamo dalla prima slide quindi tutto funziona dalla slide 0 e nello scripting di second life open sim il primo indice è lo 0 e poi viene chiamata la funzione utente e si chiama show la show mostra la diapositiva corrente indicata dall'indice index index in inglese vuol dire indice questo index è una variabile globale che è dichiarata all'inizio e quindi vale per tutti i metodi facendo show viene preso l'indice e viene mostrato come vedremo fra un po' però nel frattempo andiamo avanti e vediamo cosa succede quando facciamo il tocco dell'oggetto allora vedete che quando si tocca l'oggetto la prima cosa che lui cerca di capire è se l'avatar che ha toccato l'oggetto coincide con il proprietario attuale dell'oggetto se non coincidono abbiamo un return quindi il script termina e terminando non viene eseguito niente se volete che tutti possono toccare basta che nel touch start mettete una barra barra così e in questo modo vedete che è diventato arancione tutti possono toccare e andare avanti dopodiché abbiamo il comandino successivo questo che cerca di capire in quale punto l'oggetto è stato toccato quindi si fa un LL detected touch ST questa funzione torna a un vettore in cui la prima posizione la X indica se è stato toccato nella parte sinistra o destra a seconda che l'X valga più o meno di 0,5 quindi basta che mi chiedo se S.X è maggiore di 0,5 cioè se la componente X orizzontale è più grande del 0,5 allora vuol dire che dobbiamo andare sull'indice successivo quindi index più uguale 1 vuol dire aggiungi 1 all'indice si poteva anche scrivere index più più oppure index uguale index più 1 altrimenti se non ero nella parte destra se non ho cliccato nella parte destra devo decrementare l'indice quindi index meno uguale 1 si poteva anche dire index meno meno oppure ancora index uguale index meno 1 tutti questi tre sistemi sono equivalenti dopodichè una volta avuto l'indice mi vado a prendere dunque questo number in realtà è sbagliato ah si voglio cercarmi qual è il numero complessivo di texture che ho nel mio inventory quindi chiedo ll in get inventory number di inventory texture quindi ci sono tre texture questo mi tornerà a tre a questo punto mi domando se l'indice è andato oltre l'intervalle quindi se ho tre texture l'indice può essere soltanto 0, 1 o 2 0 è la prima texture 1 è quella intermedia e 2 è l'ultima quindi sono shiftate di 1 quindi se io diminuendo l'indice l'ho portato essere minore di 0 allora devo andare all'ultima texture che sarà 3-1 cioè 2 perché se si conta 1 in meno con l'indice quindi index uguale number che sarebbe 3 in nostro caso meno 1 se invece sono arrivato ad avere l'indice uguale al number uguale a 3 devo ripartire dall'inizio index uguale a 0 perché gli unici indici possibili nel caso di tre texture sono 0, 1 e 2 dopodiché e faccio lo show ah nello show che ho lasciato per ultimo lo show semplicemente va a prendersi il nome della texture quindi fa un ll get inventory name quindi qui faccio show aperta chiusa e richiamo questa funzione interna show questa funzione interna show cosa fa va a prendermi l'indice dato l'indice chiede alla scatola al box qual è il nome della texture corrispondente il nome della t e poi faccio un ll set texture di t su tutti i lati del mio oggetto e non contento aggiungo quella parte che vedete in cima che indica praticamente il nome della texture e poi l'indice diviso il numero totale di oggetti e questo lo faccio semplicemente facendo un ll set text poi gli metto t che era il nome della texture gli faccio un più barra n barra rovescio n per andare a capo vedete che c'è il nome e poi su un'altra riga 2 su 3 e poi gli dico l'indice che era 012 ma la gente normalmente pensa 123 quindi gli aggiungo 1 lo trasformo in string perché altrimenti non potrei mostrarlo poi gli metto 1 sbarra e poi gli metto in formato string il numero totale di texture che ci sono quindi ll get inventory number ed inventory texture che era la stessa cosa che avevo iniziato qua sotto dopodichè dico il colore 111 cioè lo faccio in bianco e poi 1 che è diciamo l'alpha cioè quanto è visibile l'oggetto e direi che così abbiamo finito ah ecco l'unica cosa qui diciamo che quando l'oggetto lo slice viene rezzato viene resettato lo script quindi viene eseguito lo state entry se volete eseguirlo voi il reset potete fare il reset qua e vedete che torniamo alla 1 quindi salviamo i cambi al nostro script e poi andiamo a vedere vedete questa qui è la cosa che ho creato dal nulla poco fa quindi cliccando sulla destra mi navigo sulle varie slide quindi in questo modo posso ottenere degli effetti notevoli che possono servire anche per visualizzare i libri o per distribuire delle pubblicazioni in second life di varie slide